Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo video. Questa volta finalmente riesco a registrarvi il video dei preferiti. Oltre che farvi i preferiti, preferisco fare un video unico, vi farò anche i flop, anche perché di flop ne ho pochi, relativamente pochi, e quindi riesco a mostrarveli in un unico video. Ma partiamo appunto con i prodottini preferiti. Allora, ho cercato di selezionare un po' tutte le categorie, quindi dalla base viso a contouring, illuminante e roba varia. Ho utilizzato, amato e stra-amato la linea di Puro Fee, per quanto riguarda la skin care. Allora, in questo caso non si vede, eccolo qua, Puro Fee, è che da allora ad oggi non riesco a trovare un suo sostituto. E ha sostituito anche tutta il range di prodotti che utilizzavo io per la skin care. Devo fare una precisazione, ovvero per questo prodotto devo ringraziare Caterina e Marika del Giardino di Bargo. Ciao! Un bacio a bellezze, perché me l'hanno consigliato. Sono andata in bioprofumeria qui al mio paese e ho chiesto un prodotto che rispecchiasse alcune delle mie caratteristiche solite che cerco nei prodotti per la skin care, ovvero un effetto matte per quanto riguarda la crema, una pulizia profonda ma non aggressiva, per quanto riguarda il latte di sergene, insomma. Io sono un po' rompibolls nella vita e anche nella ricerca di prodotti, ovviamente. Mi devono piacere, altrimenti non vedo il motivo del dover spendere dei soldi per questo prodotto. Quindi promuovo assolutamente la Purofi perché è uno dei prodotti skin care migliori che io abbia provato fino ad oggi. Per quanto riguarda la skin care serale, diciamo, l'unico prodotto che per il momento è degno di nota è l'Uplift Beauty Serum di Unique e lui, come potete vedere, ne è rimasto veramente poco e ne ho già un altro perché io lo adoro. È un sieronotte che va effettivamente ad liftare e tirare su tutte quelle che possono essere le rughette del viso. Io lo applico la sera, il giorno dopo il viso è spettacolare. Ok, continuiamo con quella che è la base viso per eccellenza, soprattutto a livello di make-up, quindi correttore e fondo. Per quanto riguarda i correttori, ho quattro preferiti e sono... Eccoli qua. Sono questi. Abbiamo due correttori di MAC, uno di NABLA e uno di UNIQUE. Ve ne parlerò ad uno ad uno e vi farò vedere anche la loro coprenza, il loro effetto, ecco, diciamo così. Allora, partiamo da lui perché è il primo che mi trovo insomma in mano tra i tanti. Questo è lo Studio Fix Perfecting Stick. Questo è nella tonalità NW25, è fatto in questo modo, quindi uno stick da stendere sotto l'occhio e questa è la sua scrivenza. Come potete vedere, ve lo faccio vedere anche qua, ha una coprenza abbastanza, direi media, va a coprire effettivamente quelle che sono le imperfezioni. Ho scelto una tonalità aranciata perché da utilizzare sia in caso di occhiaie che non, quindi insomma cerco di gestirmelo in più situazioni e lo trovo veramente molto facile da applicare ma soprattutto da sfumare. Vedete, con il polpastrello anche in velocità basta scaldare il prodotto e l'avete sfumato. Ovviamente non fate caso alla differenza di tonalità anche perché solitamente quando utilizzo quelli a base aranciati li utilizzo da sotto al fondo, quindi vado a mitigare la presenza dell'arancione con il fondo. Poi passiamo a lui che è stato ed è sempre sarà per il momento il mio preferito che è il Pro Longwear Concealer, questo è nella tonalità NW25, la stessa anche se trovo che questo è un pelino più scuro rispetto allo stick. Vi faccio vedere, eccolo qua, ha una consistenza semifluida, vedete? Ne ho messo un botto e mezzo e va bene ma proprio perché ne esce parecchio. Ve lo sfumo già perché altrimenti questo si fissa e non è possibile sfumarlo. Eccolo qua. Vedete, è un pelino più aranciato, più olivastro, più tendente alle carnagioni scure rispetto all'altro che si può adattare benissimo anche alle rosate. Diciamo che le uniche pecche di questo correttore sono il pecche, che è il vetro e se vi cade ve lo siete giocati, e la pompettina, nel senso il meccanismo a pompettina mi piace ma questa pompettina del Pro Longwear Concealer di MAC eroga troppo prodotto. Poi per il resto mi piace tantissimo perché una volta che si è asciugato, a parte che si opacizza, vedete la differenza, questo rimane un po' lucidino, questo invece si opacizza e quindi l'ho riuscita a mitigare benissimo con i fondi anche quelli più effetto matte. Mi piace perché non si muove e non fa l'effetto grinza sotto all'occhio. Vabbè, non calcolate la mia faccia oggi con le occhiaie che arrivano a Positano, ma purtroppo è un periodo un po' stressante. L'altro prodotto che vi promuove è il correttore di Nabla, questo è l'Under Eye Concealer, il mio nella tonalità 1.0. Vi swatcho anche questa, vabbè, è il classico applicatore a lip gloss. Vedete, questa è già più rosea come tonalità, infatti l'ho scelta apposta chiara perché volevo un prodotto che potessi utilizzare sia per... Vedete, molto salmone, quindi ha una base aranciata anche all'interno, però volevo un prodotto che sfumato potessi utilizzare anche, tra virgolette, come versione illuminante della zona. Quindi niente che, ecco qua, vedete, si è quasi annullato, niente che potesse alterare, diciamo, quello che è la mia zona se io non avevo presenza di occhiaie scure e importanti sotto il mio occhio. E infine un altro che ha una coprenza elevata, ma veramente elevata, è un pack che per quanto io di solito posso odiare, nella versione correttore lo amo, è questo di Unique. Questo è il Mineral Touch Skin Perfecting Concealer, il mio è nella tonalità velour e mi piace sia in tonalità che in consistenza. È fatto in questo modo, ha un tubettino di quelli che si premono. Ecco qua, questa è la colorazione, ne ho messo pochissimo perché volevo farvi vedere anche la coprenza. Intanto vi faccio lo swatch, io ho scelto questa tonalità sempre per lo stesso discorso di Nabla, quindi riuscire a illuminare anche la zona, perché io la maggior parte delle volte non ho occhiaie scure e quindi non necessito di correttori aranciati. Ecco qua, vedete questo qui. Vi faccio vedere la coprenza, che secondo me merita. Un'altissima, altissima coprenza. La coprenza, vedete, è spettacolare e anche questo è come il discorso di MAC, che una volta che l'avete sfumato si ossida, si secca, si opacizza e rimane lì fermo immobile. Questi sono i correttori preferiti del momento. Per quanto riguarda invece i fondi, ho solo due fondi e sono il Water Blend di Make Up For Ever e l'Idea Lumi Nude di Ingrid Cosmetics. Allora, l'Idea Water Blend di Make Up For Ever è un fondo waterproof, ad alta resistenza, insomma, spettacolare. Ha questo meccanismo a pompetta e ha il bruttissimo pack in vetro che io odio. Anche se è un vetro solido rispetto a quello di MAC, questo mi è caduto un paio di volte e non si è rotto, grazie a Dio. E la pompettina eroga, vedete, prodotto quanto ne volete, è in consistenza fluidissima perché è water, quindi acqua e questo è la mia colorazione. Allora, è un pelino pelino scura, anche se non tanto. La mia è la 9315. Una volta che l'avete sfumato, si fissa all'incarnato e, vedete, quasi quasi non lo trovate più, nemmeno sulla mia mano. Ne metto una quantità un po' più grande per farvi vedere che, effettivamente, pur stratificandoci sopra più strati, ecco qua, questo è il fondo. Vedete, adesso è lucido perché, giustamente, si deve settare, ma una volta settato non lo sposta più nessuno. Costa i suoi 40 euro e passa, però è magnifico. Personalmente parlando, è magnifico. Ho utilizzato sempre lui, fino a quando non ho comprato lui. Allora, questo invece è la versione, diciamo, low cost, chiamiamola così, ed è l'idea Lumi Nude di Ingrid Cosmetics. Allora, non so se ci sono punti vendita, monobrand Ingrid Cosmetics in Italia, ma, in Italia, ma, io l'ho preso da Cipria Makeup e quindi lo trovate sicuramente lì. Il mio è nella colorazione Nude 201, classico applicatore da fondo. Questa ha una consistenza relativamente cremosa, nel senso che non ha quell'effetto acqua. Ha una colorazione, forse un tantino grigiastra, devo dire la verità, ma che riuscite a mitigare con poi contour e roba varia. Allora, eccola qua, sono effettivamente due colorazioni diverse, perché questo l'ho preso, il water blend l'ho preso in estate e questo l'ho preso in inverno, quindi per me cambiano le cose. E abbastanza di alta coprenza, devo dire la verità, si asciuga relativamente in fretta e dura tutta la giornata, tanto quanto il water blend di Makeup Forever. Quindi, diciamo che vi ho posto i due fondi per eccellenza, uno low cost e uno high cost. Per quanto riguarda la base, ho finito. No, c'è un prodotto che si può utilizzare sia sotto che sopra la base, che è l'illuminante in crema di cipria. Questo è il Sublime Skincare Foundation. Ha una consistenza cremosissima e questo è il suo effetto. Insomma, dona luminosità, si è fatto un grumino, dona luminosità alla zona in cui lo applicate. Questo nello specifico ha un riflesso che è spettacolare per i miei gusti, ha un riflesso dorato. C'è l'altro che è più bronzato e mi sembra anche la versione rosata. Allora, io l'ho utilizzato come primer, ma l'ho messo solo nei punti in cui va l'illuminante, poi successivamente, e in entrambi i modi, sia come primer che come illuminante, lo trovo spettacolare. Su tutto il viso non mi piace, perché tende un po' a tirare, quindi magari qua vi sentite tirare, quindi preferisco applicarlo solo magari sullo zigomo, sull'arco di cupido, sul naso, insomma, in piccole quantità. Diciamo, ha una duplice funzione, quindi va ad illuminare fondi che magari possono risultare troppo grigi, come nel caso di questo, miscelati insieme o applicati separatamente, ma va ad essere utile anche in caso di prime, di illuminante, scusate. Per quanto riguarda la cipria, in assoluto quest'anno io ho adorato, e sto adorando lei, che è la Compact Powder HD di Paola Pim. Non ce n'è per nessuno, tant'è che da quanto ho comprato questa qui, la sto utilizzando sempre e soltanto questa, e l'ho sostituita anche alla HD di Make Up For Ever, quindi vi dico che il prezzo cambia nettamente, ma l'effetto mi piace di più con questa, quindi questa ve la straconsiglio. Mentre per quanto riguarda contour, quindi chiariscuri, a parte quello che vi ho già fatto vedere, abbiamo diversi prodotti. Vi ho voluto fare una mini selezione di una palette e di due prodotti singoli, a seconda di come voi preferite averli. Io li preferisco ultimamente in palette, però è soggettivo. Capisco che la cosa può cambiare da persona a persona, e quindi vi ho proposto due prodotti uguali, ma diversi, tra virgolette. Allora, come scuri, quindi come contouring, ho adorato, sto adorando, e da quando l'ho comprato, e devo scegliere un prodotto singolo, utilizzo lui, che è Harmony di MAC. Io non riesco a farne a meno. Questa è la colorazione. È veramente impalpabile. Sia calda che fredda allo stesso tempo, un po', perlomeno io ci vedo sia del caldo che del freddo, e mi piace tantissimo. La sto utilizzando e l'ho ricomprata anche più volte, perché mi piace tantissimo. E questa è in versione, diciamo, singola, ma potete anche mettere nelle palette magnetiche. Avete anche il refill, quindi se preferite le palette, Harmony in refill, lo mettete nella palette. Per quanto riguarda l'illuminante, però in polvere questa volta, perché in crema ve ne ho già parlato, io utilizzo, e sto utilizzando da quando l'ho preso lui, che è il Mary Luminizer. L'ho sostituito anche al Soft and Gentle di MAC, non perché quello non fosse all'altezza, ma semplicemente perché la luminosità di questo mi piace di più. semplicemente, anche perché anche quello è molto, molto, molto bello. Ve lo swatcho. Questo è, quello è delicato, questo è luce pura. Cioè, vedete? Cioè, ha una luce veramente spettacolare, quasi accecante, abbagliante, quindi lo adoro. Non so se comprerei gli altri, le altre due versioni colorate, quella rosata e roba vaga, perché io adoro queste tonalità più sul bianco, tra virgolette, diciamo così, sul dorato. Però, se sono tutte così, sono sicuramente consigliabili. Quindi, a seconda della vostra preferenza, prendete quello più rosato, quello più dorato e roba varia. Lo potete trovare da Gardania, da Limoni, online da Machilaia, per esempio. Un altro prodotto che sto adorando è lo Sculpting Trio di Younique. È l'unica palette all'interno della quale presenta un numero di colori che io utilizzo. Un numero di prodotti che sono questi. Sono tre prodotti, come potete vedere, anche abbastanza scavata. Eccola qua. E questa è la versione per pelli chiare, la Light, mi sembra che si chiami. Light, sì. E ci sono altre due tonalità, ovviamente, a seconda del vostro incarnato, scegliete quella che più vi può piacere. Questi sono i prodotti. Abbiamo due prodotti in crema ed uno in polvere. I due prodotti in crema sono, scusate, vi sto accecando, l'illuminante è la terra, insomma, quella per effettuare il contouring. E ve le faccio vedere. Questa è la terra. Ve la già sfumo un pochino, in modo tale da farvi rendere conto del colore. Guardate, è molto, 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 molto tenue, quindi è stratificabile, è modulabile, ed è una... è fantastica. Questo è l'illuminante, sempre per via del fatto che io adoro gli illuminanti dorati. Questo con, al di sopra, per esempio, il Mary Lou Manizer. Morite. Guardate quanto è bello, quanta luce fa. Guardate, è strepitoso. All'interno della palette trovate un altro prodotto, che è una sorta di banana powder, insomma, infatti, consiglia di metterle qui per fare baking, insomma, nei pugni in cui di solitamente si fa baking. Ed è... Eccola qua. Spudoratamente banana. Eccola. È opaca, non presenta. L'ho messa qui sotto. Vedete? Non presenta niente. E come trio, lo sto usando veramente tantissimo. È quello con cui ho fatto contouring oggi. Vedete? solo con il prodotto in crema. Vedete? È spettacolare. Questo. E lo sto veramente, veramente, veramente adorando. Per quanto riguarda i blush, vi consiglio in assoluto due prodotti. Uno che sapete per eccellenza, che è il mio preferito, e che oramai dovreste saperlo a memoria, che è il Lady Rouge di Milani. Mi incarto con le parole. Quindi Lady Rouge di Milani 06. Ed è spettacolare. Lo sapete, ve l'ho fatto vedere più e più volte. Io lo amo. Non è quello che ho su oggi. L'altro, invece, che è quello che ho su oggi, è lui. È questo blush di Mulac, che non ricordo il nome, ma avendo il magnete, si può leggere. Scar, sì, è vero, era Scar. È questo aranciato. In video sembra più sparaflesciato, che ha una scrivenza bellissima. Vedete? Solo toccato vi dà questo, ma stratificato, auventa. Vi faccio vedere anche quello di Milani, perché magari c'è qualcuna di voi che è nuova e non sa di cosa sto parlando, ma se andate a ritroso nei miei video, sapete, vedete, bellissimo, sapete che lo adoro. Questo è alla prima passata, ma anch'esso stratificato, risulta davvero... ovviamente non rende sulla mano, questo andrebbe visto effettivamente sul viso, che è bellissimo. Li adoro. Per quanto riguarda invece gli occhi, passiamo agli occhi, sì, come primer occhi, ho scoperto, forse avrò fatto la scoperta dell'acqua calda, ma ho scoperto lui, che è il primer di P2, il Perfect Eyes Base di P2, si presenta in un bianco madreperla quasi, veramente bello, mi piace il fatto che è steso, diventa quasi trasparente, però ha quell'effetto rosato, che comunque va a uniformare la parte, però è molto cremoso, all'interno ci sono 5 ml, è un paio di 6 mesi, questa è l'unica cosa che non mi piace, la breve scadenza, diciamo così, lo pagate veramente una cavolata, 2,46€ se non ricordo male, e vi dura una vita e mezza, tra l'altro enfatizza i prodotti, che è una meraviglia assoluta, da quelli più high cost, a quelli più low cost, e dice di essere waterproof, non l'ho provato in piscina, o in palestra, o da altre parti, perché non mi trucco, però la durata dell'ombretto è veramente eccelsa, quindi lo amo, se non fosse per il pack, che è insomma il ditino, magari ci sono quelle persone che portano le unghie a lunghe, non riescono a pucciare all'interno del prodotto, quindi questa è l'unica, tra virgolette, nota negativa di questo prodotto, poi, siamo agli occhi, parliamo di un altro primer, che effettivamente diciamo, è degno di nota, quindi è lui, il glitter primer di NYX, o NYX, chiamatelo come volete, io lo chiamo NYX, e mi piace veramente tanto, lo utilizzo sinceramente, sia per i prodotti glitter, che non glitter, so che ci sono dei prodotti, che hanno glitter all'interno, che magari sfumati perderebbero, con questo no, mi piace tantissimo il pack, anche se prediligo, la versione diciamo, con l'applicatore, non lo so, la trovo più comoda, però come tenuta, ha veramente una tenuta estrema, soprattutto per tutti quegli ombretti, che possano presentare punti luce, glitter, glitter piccoli, grandi, insomma, chi più ne ha, più ne metta, quindi veramente straconsigliato, poi, sempre per gli occhi, vi promuovo, due palettini, e, una terza, che è sempre versione palettina, ma, ve la promuovo, per la versione ombretti, adesso mi spiego meglio, allora, vi promuovo, la palette più low cost, che ho, che è questa qui di Essence, che è la All About Nude, non so se è ancora in commercio, questa linea di palette, ma, devo dire la verità, vedete, sono anche scavati, e non ho scavati, la Basics, per esempio, non è scavata tanto quanto questa, devo dire la verità, la utilizzo veramente, veramente tutti i giorni, tant'è che ci sono anche ombrettini, come questo qui, versione illuminante, che anche come illuminante, vedete, fa la sua figura, quindi è un po' più sobrio, come per esempio, gli ombrettini matte, questi qui marroni, che possono essere usati, volendo, anche per un contouring, quindi magari, siamo andati in vacanza, eccolo qui, e abbiamo portato dietro, solo lei, riusciamo a gestirci, un po' tutto il viso, e mi piace davvero tanto, veramente la utilizzo tutti, tutti, tutti i giorni, e come ombretti mono, invece, anche se voi li vedete in palette, ma come ombretti mono, io vi consiglio, vi straconsiglio, lo sapete, che adoro gli ombretti di Nabla, allora, questa è una palette puramente indicativa, ne ho tantissimi, ne ho veramente tantissimi di Nabla, ma è giusto per farvi vedere il prodotto in sé, effettivamente sono tutti fantastici, non ce n'è uno che non mi piace, vedete, anche quello, versione illuminante, forse dalla, dal video non rende, eccolo qua, insomma, come ombretti mono, sto amando, e sto continuando ad amare, i mono di Nabla, mentre, come palette, che ha soppiantato, devo dire, nettamente, anche la Dreamy di Nabla, c'è lei, ed è la Different Two di Mulac, è una palette veramente strepitosa, forse avrei cambiato, uno massimo, due colori all'interno della palette, ma, veramente riuscite a realizzare tanto, un trucco nude, uno smokey eyes, o smokey eyes glitter, un glitter, un matte, riuscite a fare, veramente tantissimo, io la sto amando, e l'ho sostituita, anche a ladrini, per quanto riguarda, invece, l'ultima categoria, tra virgolette, chiamiamola così, le labbra, ho amato, indubbiamente, questi due prodotti, le Superstay Matte Ink, di Maybelline, ho preso due colori, così a riferimento, per farvi vedere, uno chiaro, e uno scuro, insomma, questo, più chiaro, è lo 05, è Loyalist, che è strepitoso, quando l'ho comprato, pensavo, che avesse questo colore qui, quindi quasi correttore, ma, devo dire, che è una meraviglia, ma, ancora più bello, è il numero 15, il Lover, ma è strepitoso, cioè, li mettete su, non fanno difficoltà a stendersi, non fanno difficoltà ad asciugarsi, non si tolgono nemmeno col bifasico, sono veramente, 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 fantastici, io ne ho più di qualcuno, queste sono tutte le mie tinte di Maybelline, e le stra-adoro tutte, non ce n'è una che, che odio, nemmeno le più scure, che sono Pioner e Voyager, e, allo stesso tempo, ho amato, anche se sono categorie diverse, nel senso che, sono entrambi prodotti per le labbra, ma uno è più cremoso, è più pieno, è più corposo, l'altro è più sheer, ma allo stesso tempo, duraturo nel tempo, che è lo Stiff Upper Lip Stain, Moodstruck Minerals, di Ioniki, questa è la tinta, è un effetto, acqua, diciamo, poi ve lo faccio vedere dal pack, che riuscite a, stratificare sulle labbra, io ho questa rossa, ovviamente, non poteva essere diversamente, adesso è ancora lucidina, perché, si sta asciugando, ma ve le farò vedere, entrambe asciutte, questa è nella tonalità, sensational, e la sto adorando, sicuramente ha una pecca, nel senso che, sento così un po' effetto acqua, tipo, il Bene Tint di Benefit, solo che, il Bene Tint di Benefit, ha il pennellino, questo qui invece, ha, il, l'applicatore, Lip Gloss, insomma, quindi, se siete pratici, perché utilizzate il Benefit, il Bene Tint di Benefit, mi sto incartando oggi, riuscite ad applicare anche questo, altrimenti dovete fare un attimino, una, due prove a casa, e poi riuscite ad applicarlo senza problemi, vedete quanto sono spettacolari, e, niente, questi sono tutti i preferiti, del periodo, passiamo ai, Flop, è un prodotto di Unique, quindi questo a dimostrazione del fatto, che io non vi faccio vedere i prodotti, semplicemente perché, sono rappresentante, ma perché effettivamente, li testo, li provo, e vi dico ciò che penso, quella, il prodotto in questione, è questa, ed è la crema, Time Correcting Night Cream, la crema notte sostanzialmente, è fatta in questo modo, vedete, l'ho anche molto utilizzata, ma, non mi piace, non vedo benefici, la sento anche abbastanza pesante sul viso, e ho capito che è una crema notte, però, non lo so, non è scattato l'amore, e quindi, non ve la consiglio, poi, sempre per quanto riguarda la skin, care, diciamo così, un altro prodotto, che non mi è piaciuto, sì, è solo questo, è lui, ed è il, l'under eye, di Tony Moly, è fatto in questo modo, si gira il, lo spirulino, qui esce il prodotto, e lo dovete applicare sotto, agli occhi, ma, sostanzialmente, è di una, durezza, che quando lo andate ad applicare, se tirate un altro posto, ne esce l'occhio fuori, quindi lasciate perdere, è pucciosissimo, sono la prima a dirlo, è pucciosissimo, ma non, non ha nessun effetto, a parte quello di rinfrescare al momento, e poi basta, poi, per quanto riguarda, ecco, il siero, di cui vi parlavo, delle, per le ciglia, quello che, eh, ho provato, e che non mi è piaciuto, è questo qui, di Laction, by Medical Labs, e Lush Treatment, questo andava applicato, sulle ciglia, con effetto rimpolpante, insomma, i soliti, i pipponi, che ci ripropongono, tutti i sieri, per le ciglia, questo è uno di quelli, che non fa effetto, infatti, se vedete, eh, il prodotto, non più trasparente, ma quasi marroncino, è perché lo utilizzo, per fissare le sopracciglia, in modo tale, da finirlo, e ciaone. Eh, per quanto riguarda, gli occhi, quindi ombretti, gli unici, che per il momento, grazie a Dio, vi boccio, sono queste palettine, di Makeup Revolution, queste sono la versione, copia naked, poi altre copie, tipo Too Faced, e roba varia, non le ho provate, perché, eh, avendo provato loro, e non essendo amici, trovata benissimo, non le ho, non le ho più ricomprate, ho provato ad utilizzarli, più e più volte, ma, cercando di trovare, l'amore, la scrivenza, vedete, anche di alcuni più scuri, non è proprio eccelsa, ma il problema più grande, si pone, quando si prende, ta 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 ta, il blender, o il blending brush, io vi sto sfumando, un po', gli ombrettini, tra di loro, e vedrete, che come per magia, sono quasi scomparsi, e niente, vabbè, a parte la faccia di cazzo, che ho fatto, ops, scusate, ho detto una parolaccia, a parte la faccia, da ebete, che ho fatto, eh, avete visto, che comunque, la resa, non è, eh, così spettacolare, e infine, ho due bocciati per le labbra, che sono il, Wacom Loves Barbie, queste qui, che sono le classicissime, liquid lipstick, di Wacom, io ne ho tre, ho preso un colore, di riferimento, che è, l'Odd Apple, 99, vi faccio vedere, la sua, eh, scrivenza, qui a me, mi sembra di vedere, un lucidalabbra, e questa cosa, mi ha deluso tantissimo, oltre che, nella, eh, sua, eh, texture, che vedete, è completamente trasparente, e disomogenea, rispetto, a questi, della permanente, che cacchio, di senso ha, no? farmi un cartonato, strafigo, perché strafigo, con un pack, che non ha nulla, di differente, da, quelli della permanente, a parte, che la scritta Barbie, che dubito, che duri una vita, ma che, con i primi, eh, le prime volte, che lo aprite, prima o poi, andrà via, ne sono più che certa, ma anche se non, non andrà via, cioè, il fatto che io, abbia la scritta Barbie, sul, pack, vi faccia, vi fa ricordare Barbie, o questo, vi fa ricordare Barbie, assolutamente, questo, mi fa ricordare Barbie, ma io, questo, lo butto, almeno, per come sono fatta io, i cartonati, li butto, quindi, non ha senso, pagare, un prodotto, limited edition, per, il fatto, che c'è scritto Barbie, sopra, e poi, ritrovarsi con un lucidalabbra, pur essendo, un liquid lipstick, e non avere, il pack, strafigo, anche sul, sul pack, insomma, quindi, Wacom, per cortesia, quando fai le limited, o chiami me, e ti studio i pack, oppure, cerchi di studiarle, un pochino, più, ideali, al tema, per il quale, sono stati, ideati, insomma, diciamo così, e niente, ragazze, io vi lascio, perché il video, non è lungo, di più, però, sono contenta, di aver fatto, un video, e di aver, chiacchierato con voi, avervi mostrato, i miei prodotti preferiti, diciamo che adesso, l'inconveniente, è quello di dover, raccimolare, tutti questi prodottini, che ho disteso qui, e, metterli a posto, nella postazione, ma va bene, lo farò, per voi, farò anche questo, e niente, io vi ringrazio, per aver guardato il video, se vi è piaciuto, potete spolliciare, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, vi saluto, ci vediamo nel prossimo, ciao!